Recupero della giornata 23 tra Esperia Lomazzo e Aurora Boldese. La squadra di Crucitti vuole provare a sognare una clamorosa rimonta playoff per farlo delle vincere contro l'Esperia chiamata salvarsi. Si gioca sul sintetico di Turate e parte meglio nel primo tempo l'Aurora che dopo quattro minuti trova il gol. Bella serpentina di Lorenzo Lelli sulla corsia mancina pennellata in area e Belli anticipa tutti di testa girando in rete il pallone dello 0 a 1. Esulta l'attaccante classe 2004 alla prima rete con la maglia dell'Aurora Boldese. Prova a reagire l'Esperia Lomazzo appoggio per la conclusione da parte di Felici. Palla ampiamente alato sul tiro del numero 10 con Pasiani che controlla. L'Aurora invece è terribilmente più cinica e a metà primo tempo troverà doppio. Conclusione potente da parte di Besati che libera il destro e colpisce in pieno la traversa. Sulla respinta il più lesto di tutti è De Rosa che sorprende la difesa dell'Esperia un po' ferma e di testa. Deposita il pallone in rete per il gol del 2-0. Aurora in pieno controllo del match ed esultanza del numero 10 ex Cassa Sacconago. L'Uboldese prova a cavalcare il momento. Gioco di gambe, di tartaglione. Tiro di prima intenzione del numero 7. Stilitano alza il pallone sopra la traversa. Con le immagini nella ripresa e subito reazione Esperia. Verticalizzazione di torno a cercare Pavanello. Il numero 11 davanti a Pasiani non sbaglia e riapre. Così la partita. La pressione del Lomazzo ci sarà per tutto il secondo tempo ma sarà sterile e complice anche l'uscita proprio di Pavanello per infortunio. L'Aurora Boldese invece nel finale chiude definitivamente la partita con la girata vincente di Davide Tartaglione che chiude così il match nel primo minuto di recupero. Minuto 91. 1-3 il punteggio e Sipario che cala definitivamente sul match. L'Aurora infatti batte l'Esperia si porta nel gruppo di squadre a quota 33 punti in classifica a meno 5 dal quinto posto.